Il mio primo matrimonio è un matrimonio. Se hai detto allora che gli piacevo, come sarebbe andata? Magari avrei una vita diversa. Perché? Tu vorresti una vita diversa? Che succede? Non so perché ti ho chiamato. Con chi eri al telefono? Quando? Beh, ti ho sentita un attimo fa, eri agitata. Che sto facendo? Perché penso sempre a te? Dovresti sentirti lusingata di avere un marito che ti considera un tesoro? Sei sola? Sola col mio giornale, sì. Sei felice con tuo marito? Credevo di sì, ma non lo so più. Ma che sto facendo? Mi colpevolizzo, è orrendo. Mi racconto che è solo un'avventura. Che amo ancora Jean. Sicura che non ci sia niente di sospetto? Comincio a preoccuparmi. Spero che tu non voglia dire quello che temo. È sicuro di voler sapere la verità? Se sono sicuro?